Un incendio è interessato e distrutto nel corso della notte due auto a Foggia. Si tratta di una Toyota Igoe e di una Citroen parcheggiata in piazza Pericle e Felici, in pieno centro storico. Le fiamme, che dei primi accertamenti potrebbero essere di natura dolosa, sebbene siano ancora in corso accertamenti delle forze dell'ordine, sono state spente dai vigili del fuoco. Le stesse hanno interessato anche la serranda di un locale in disuso e il balcone di un'abitazione sovrastante. Stamani, invece, paura a Foggia per un'auto in fiamme all'incrocio tra via Taranto e via Pesola. Le immagini inviate al nostro servizio di lottele Foggia mostrano l'intervento dei vigili del fuoco per domare l'incendio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.